L'incubo coronavirus tocca anche la Salernitana, purtroppo. Un calciatore della Rosa Granata è risultato positivo al Covid-19. La notizia era circolata già martedì sera ed ha trovato purtroppo conferma nel tardo pomeriggio di ieri, ma non ha avuto contatti con il gruppo squadra da domenica, precisa il club sul proprio sito ufficiale. Staff tecnico e tutto il gruppo squadra, come da protocollo, dovranno andare in quarantena e usciranno soltanto per allenamenti e partite. Non solo, i tesserati della Salernitana dovranno sottoporsi a un altro giro di tamponi oggi ed anche domani per partire sicuri per la trasferta di Verona al Bente Godi contro il Chievo sabato pomeriggio. Nel giorno della gara, test rapido e accesso allo stadio soltanto ai negativi, ovviamente. Dopo il match contro i Clevenzi, il gruppo squadra tornerà in isolamento, la durata resta di 14 giorni in tutto e intensificherà i controlli con tamponi ogni due giorni e non ogni quattro, come in precedenza. Il nome del giocatore risultato positivo al coronavirus è stato comunicato dalla società all'asla di competenza. Le prime abisaglie, come detto, erano emerse martedì sera per due tamponi senza risultati. Due tamponi dovranno essere ripetuti in quanto il materiale prelevato è risultato insufficiente ai fini di anno di anno, si aveva comunicato il club Granata alla vigilia della sfida contro il Sud Tirol. Ieri mattina tutto il gruppo squadra si è sottoposto a nuovi esami, tutti negativi, tranne quello elementi non convocati da Castori per la gara di Coppa Italia, perché improniscinto di essere ceduto in prestito di una categoria inferiore. A differenza di quanto è accaduto in numerose altre società che pure hanno avuto al loro interno casi positivi, l'identità del giocatore resta celata per rispettare evidentemente la privacy. Oggi nuovo allenamento per la Serenitana in vista del match in casa del Chievo di sabato prossimo. Ieri, dopo la gara contro gli Alto a Tesini, il gruppo dei non impiegati ha comunque fatto una leggera sgambatura allo stadio Arechi.